Benji, che ne pensi di Positano? Cosa pensi di Positano? E' bellissimo, mi piace qui, è incredibile E' così bello, la piazza e tutto E' la prima volta qui? Ok, e tu hai tempo in Positano? Tu invito tutto il mondo che arrivi a Positano Sì, invito tutti a venire a visitare Positano E' così bello, la città è molto buona E tutti è molto bella Grazie, grazie Abbiamo anche un sacco di star che la seguono Grazie